Nella settimana dedicata al Pesto, Pestate, anziché Aglio e Pinoli, vengono le due squadre genovesi. Pestata oltre misura la Sampdoria, a Marassi da parte dell'Inter, ma ha pestato anche il Genoa a San Paolo dal Napoli. Partiamo dalla Sampdoria, sconfitta nel modo peggiore, 5 sono le pere che subisce allo stadio Luigi Ferrari, se lo fa nel modo che forse i tifosi sandoriani gradiscono meno, seppur nella tragedia sportiva di un 5-0 immediato dall'Inter, con 4 gol di Maurito Icardi. Allora che dire, a voler scherzare un po', Icardi stanno indigesti ai tifosi sandoriani, alla Sampdoria è tutta, però la Sampdoria sta vivendo un incubo sportivo sia chiaro e allora peperonata, sicuramente quella che deve aver pensato di aver mangiato Gian Paolo nel vedere la sua squadra messa sotto dall'Inter. Peperonata per Gian Paolo, che sicuramente ha mangiato pesante perché non riesce a rimediare ormai a quella che può essere definita la crisi della sua squadra. Confitto anche il Genoa in quel di Napoli, sicuramente una buona prestazione, un Genoa che resiste, ma poi alla fine i partenopei di Sarri, che questa volta non insulta nessuno, riescono a far propria la loro gara. Allora che dire, mozzarella, mozzarella napoletana per Ballardini e pizza, ovviamente per consolarsi di questo terzo colpo d'arresto consecutivo. È vero, la squadra non gioca male, perde sempre di misura, però qualcosa bisognerà pur fare. Se allora, chissà, se basterà una mozzarella, ci vorrà anche qualche pestellata per far migliorare, se non il gioco, i risultati. Adesso comunque una riflessione al termine di queste considerazioni calcistico-culinarie. Allora ancora poche settimane, poi ci sarà il derby, che rischia di essere davvero un piatto unico per le squadre genovesi. Ormai non ci sono ambizioni, almeno pare che non ci siano ambizioni e sperita sembrerebbe appunto la questione della salvezza. Anche per il Genoa ci si concentrerà, come spesso accade, e non è sempre positivo su quello che sarà il derby. E allora davvero sarà un piatto unico a base di che cosa lo staremo a vedere. Quello che i tifosi si augurano, ovviamente, è che non sia una torta. Torneremo a pestellare la prossima settimana, dopo la sosta, per Genoa e Sampdoria. Questa settimana le pestellate ci vogliono per entrambe.